Già qualche settimana fa Simone Cristichi aveva annunciato di voler cantare il suo brano a Bicura di me insieme a Ermal Meta Che ha deciso di ricambiare il favore. L'anno scorso, infatti, Cristichi aveva partecipato a Sanremo in veste di ospite Per accompagnare Meta e Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente E anche il duetto di ieri sera, come molti immaginavano, ha conquistato il pubblico Ermal Meta ha dimostrato di saper rendere dolce e romantica ogni canzone che canta Il cantante albanese, infatti, ha saputo dare un tocco ancora più delicato al brano che Simone Cristichi ha portato in gara a questo festival di Sanremo Si ammetta che Simone Cristichi si sono presentati sul palco dell'Ariston vestiti completamente di nero Punto un'esibizione particolarmente profonda, la loro, che ha saputo entrare nel cuore del pubblico E ancora una volta Meta si è rivelato un vero talento video, capace di impreziosire già di per sé molto profondo Un duetto davvero molto atteso quello di Ermal Meta e Simone Cristichi Il quale peraltro da giorni viene indicato come uno dei favoriti alla vittoria Un'esibizione particolarmente Un'esibizione particolarmente Un'esibizione particolarmente Grazie a tutti.